Attentato di un amitardo a Carapelle nel Foggiano, una bomba è stata fatta esplodere davanti al gabbiotto del custode dell'azienda agricola Natura Dauna. La deflagrazione ha distrutto la struttura di recente costruzione che si trova all'ingresso della ditta. Non ci sono feriti sul posto i carabinieri che stanno ora cercando di acquisire filmati della videosorveglianza dell'azienda. Quest'ultimo è il terzo atto intimidatorio subito dal titolare dell'azienda. Il primo il 29 aprile dello scorso anno, quando sconosciuti diedero fuoco a 4.000 cassoni in plastica per la raccolta degli ortaggi. Il secondo a maggio scorso, quando venne fatta esplodere una bomba sotto l'auto dell'imprenditore agricolo. Una bomba nella notte, l'ennesima contro un'azienda agricola, magistratura e forze dell'ordine. Sono già al lavoro da stanotte e a loro va il mio ringraziamento, ma voglio rivolgermi ai miei concittadini. Alla parte sana di Foggia e della sua provincia, la maggioranza onesta e per bene, è il momento di dire basta e di reagire. Così Marco Pellegrini, senatore 5 Stelle della Commissione Antimafia. Non possiamo accettare, prosegue in silenzio questa violenza, non possiamo accettare di essere notizia criminale ogni giorno. Dobbiamo urlare il nostro sdegno, stare vicino alle vittime e agli inquirenti, perché c'è gran bisogno della voce della società civile che lotta contro le violenze, le bombe. Non è il momento, conclude, della paura ma della volontà, altrimenti si condanna Foggia a non avere un futuro prospero per la violenza cieca di pochi che si arricchiscono sulle spalle di tutti.